Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni l'aveva detto, io ve l'avevo detto, Crosetto l'aveva detto, Sallusti l'aveva detto, e tanti altri. E quelli lì per giustificare, pensate un po' cosa dicono, Cosa si inventano? Che cosa mi sarei inventato io, la Meloni, Sallusti e tutti gli altri? Beh, abbiamo detto che c'era qualcosa che non tornava, c'è qualcosa che mi sfugge, qualcosa che non torna. Giorgia Meloni fa un lungo video, dove arriva poi la giornalista di sinistra, che vede il video di Giorgia Meloni, perché è un video molto interessante, che non lascia spazio a molte divagazioni sul tema, quello che dice Giorgia Meloni fa veramente riflettere. Quando il giornalista o la giornalista di sinistra vede questo video di Giorgia Meloni, assolutamente quasi incontestabile, allora fa un fotomontaggio e gli mette dietro la foto del dittatore. Una sinistra e un giornalismo di sinistra di un infantilismo che forse un bambino di sei anni non farebbe queste cose. Una sinistra sempliciotta che fa il fotomontaggio di Giorgia Meloni che parla e gli mette dietro la foto del dittatore. Una roba che solo... Dico, immaginatevi un giornalista che ha famiglia, che il figlio dice papà ma sei stato tu a fare quella roba? Ma che scherzavo? Ma hai fatto uno scherzo, papà ha fatto uno scherzo. E il figlio dice bello scherzo del cacchio. Eh ma papà è spiritoso, la mamma è spiritosa. Una roba veramente... Quella del fotomontaggio l'avete visto, no? Povera Giorgia Meloni. Diciamo povero Silvio. Vi ricordate? Povero Silvio. Oggi dobbiamo dire povera Giorgia. Sono tutti contro di lei. Ce l'hanno con lei. E guarda, cara Giorgia, questo è l'inizio. È già iniziato ma questo è l'inizio. Da qui fino alle elezioni del 2023 non so che cosa potrà tirar fuori la sinistra. È un po' come dire negli anni 80 uno non poteva immaginare che un giorno ci sarebbe stato internet. Ecco, io oggi non posso immaginare quello che succederà da qui al 2023 perché sono cose che noi umani non potremmo neanche immaginare quello che potrà fare la sinistra da qui alle elezioni. Perché quello che hanno fatto dal 27 di settembre fino ad oggi io non l'ho mai vista ma neanche contro Berlusconi ma neanche contro Salvini quello che hanno fatto in questa campagna elettorale dove la sinistra si pensa che c'era quella pubblicità non ci vedo più dalla fame qui non ci vedo più dal livore la destra primo partito italiano la vera destra prima ce l'avevano con Berlusconi il Cavaliere Nero ma il Berlusca un poveraccio è un imprenditore faceva magari i suoi interessi l'ha fatto per noi l'ha fatto per lui l'ha fatto per quel che volete ma l'ha fatto quindi hanno dipinto per 26 anni Berlusconi come il Cavaliere Nero dicono ma che c'ha zecca vabbè poi sono arrivati con Salvini che arrivava da un partito secessionista anche lui un gerarca dice ma cosa c'entra no? ma cosa c'entra? quello c'è la camicia verde no adesso la vera destra quella vera non l'imitazione che è la Lega e non Forza Italia che non c'entra niente il partito di un grande imprenditore no adesso c'è quella vera c'è la destra quella vera ma quella vera non capiscono più niente non sanno più che cosa fare allora il vice del PD sono fuori dall'arco democratico e tirano fuori inchieste e tirano fuori le frasi di Michetti dette quando ci aveva 25 anni mentre era in spiaggia mangiandosi un gelato un cornetto insomma le manifestazioni allora allora tutto questo perché perché stiamo viene da ridere ma ci sarebbe da piangere ci sarebbe da piangere ma Giorgia Miloni Giorgia Miloni adesso può comprendere tutto quello che ha passato Berlusconi e Salvini prima lo poteva intuire ma adesso credo che i tre siano uniti da questo la furia della sinistra che cosa si scopre oggi? si scopre qualcosa di incredibile Giorgia Miloni diceva c'è qualcosa di strano com'è possibile che si svolgano delle manifestazioni con come mai non sono state fermate delle persone prima? lo hanno detto in internet lo hanno detto in piazza com'è possibile c'è qualcosa dice Giorgia Miloni c'è qualcosa di strano come dice anche la russa come se avessero voluto permettere le manifestazioni per creare il caso alla vigilia delle elezioni è come se avessero lasciato fare si sono levati gli scudi avete sentito cosa dice Meloni ha detto che è una roba che l'hanno oggi la Lamorgese che cosa dice in aula? li abbiamo lasciati fare non è uno scherzo la Lamorgese ministro dell'interno capo della sicurezza del paese è a capo della sicurezza interna del paese a capo della sicurezza interna del paese dice li abbiamo lasciati fare li abbiamo lasciati fare è un'assoluta ammissione anche se io non aggiungo nulla li abbiamo lasciati fare non abbiamo fermato queste persone perché c'era il rischio che le combinassero ancora più grosse li abbiamo lasciati fare il ministro sapeva ma è anche impensabile che non si sapesse ma sentite un po' i servizi italiani l'intelligent service i servizi di informazione interni al paese ed esterni sono tra i migliori al mondo tra i migliori al mondo i nostri servizi sono dappertutto sanno tutto la polizia postale i servizi la bigos la sezione della polizia sanno tutto quello che passa in internet tutto tutto e questo qua diceva da giorni che doveva fare queste cose lo ha detto anche sul palco di fronte a migliaia di persone dove c'erano ovviamente ufficiali della polizia in borghese era pensabile che il ministro dell'interno il ministero dell'interno non sapesse niente ma certo che lo sapevano e la lamorgese in aula dice li abbiamo lasciati fare avevo ragione avevo ragione aveva ragione la meloni aveva ragione sallusti avevano ragione tutti gli altri che dicevano la stessa cosa che sapevano e li hanno lasciati fare andiamo avanti poi nel prossimo video arrivederci a tutti